Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video con Rim e Iba! Oggi siamo qui per fare l'unboxing dei regali del mio compleanno! Sono felice per tutti questi regali, ora apriamoli insieme e scopriamo tutto quello che mi hanno regalato! Ovviamente per privacy ho tolto tutti i biglietti che c'erano, come sappiamo tutti i regali più piccoli contengono i regali più preziosi, perciò inizio dal più grande! Vediamo cos'è, è una giacca tipo mista a felpa, sì che bella! Guardate con il cappuccio! Mi piace un sacco, è bellissimo! Il prossimo! Testiamo un attimo la busta, sembra qualcosa, non so un vestito, un pantalone, una maglia E' una felpa! Non l'avevo teorizzato! E' fantastica! Guardate qua c'è una farfalla grande, qua ci sono le lune, la adoro! Questo sembra morbido, vediamo! Una sciarpa? No, però qua c'è tipo una parte un po' più durezza, un po' la cintura, vediamo! Un pantalone, immaginavo, sembrava proprio quello della cintura Un jeans Ah, ma è di quelli a zampa di elefante, bello! Questo è proprio carino! Grazie mille! Qua Sephora mi attira, magari un trucco, una crema, vediamo! Vediamo! Sembra o un profumo o un bagno doccia? Non lo so, boh vediamo E' rosa E' un profumo! Apriamolo Che bei colori! Vediamo Mmmmm, buonissimo odore! Andiamo sull'argentato Questa è per forza una scatola Vediamo Chiediamo aiuto alle forbici Rim, le forbici per favore Grazie Questo è un massaggiatore per faccia Ha due modalità E ha cinque test rimovibili Queste qua Molto utile! Vado avanti con le cose grandi E lascio queste per la fine Una piastra! Ragazzi voi sapete che adoro le cose che hanno a che fare con i capelli E questa piastra è fantastica Ed è pure a infrarossi Cioè non fa male i capelli Quindi non rovina i capelli Fantastica L'anno scorso ho già ricevuto come regalo di compleanno una riccia a capelli Però anche una piastra per capelli lisci è perfetta E poi preferisco i capelli lisci Con Salon Studio Professional si possono fare anche i boccoli Infatti ruotando i capelli intorno alla piastra si possono fare dei boccoli perfetti E oltre ciò le piastre sono larghe 42 mm Quindi anche per chi ha una chioma molto folta come la mia Si può completare uno styling perfetto in poche ore Il prossimo Sembra molto morbido Apriamo Ma è una cover! Pop it! Ma quanto è cute ragazzi! E troppo cute La adoro Potrei fare un video solo per questo Mettiamo la cover Et voilà Con la stessa procedura prendiamo quello più grande Dalla busta sembra un gioiello Spero non mi abbiano fregato Una caramella Orbici Un orologio Wow E' fantastico Prendo Wow E' fantastico Da aggiustare perché è un po' più larga del mio polso Però è fantastico Non mi hanno fregato Andiamo al prossimo regalo Con l'orologio L'ho lasciato per ultimo perché c'è scritto Happy birthday Sembra molto leggero Lo apro da qua Secondo me in questa scatolina O ci sono degli orecchini O un anello Proviamolo Una scatolina dorata Fa rumore Degli anelli Non solo uno Tanti anelli Proviamoli Qui c'è un curicino Qui è semplice Qui c'è un altro curicino E questo anche semplice Quattro Bellissimi Anche con l'orologio nuovo si abbinano Che dite? Si abbinano? Scrivetelo sotto nei commenti L'ora è da aggiustare Non vi dico che ore sono adesso Però vi dico solo che è sbagliato Adoro Con la cover c'era anche questo magnifico anello Che mi sono dimenticata Facciamo la mini unboxing insieme Vediamo com'è Molto molto carino Magari qui sotto nei commenti scrivete anche qual è il vostro regalo preferito Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!